un'avvio a tutti legionari a probare l'azione di iscritti io sono alessio pcm e vi do il bentornato su geopolitica al simmetro 4 edizione 2022 e mamma mia ragazzi delle volte a registrare è davvero spossante e lo dico perché è la seconda volta che registro l'episodio 4 purtroppo non ho modo di farvi vedere quello che ho fatto nella scorsa registrazione e ho salvato quindi vi dovrò aggiornare un attimo su quello che è successo non si smette mai di imparare a quanto pare io ultimamente sapendo che geopolitica si può può crashare salvo l'episodio cioè dopo ogni registrazione salvo la partita rientro faccio una nuova registrazione e così via adesso dovrò anche controllare che l'audio non sia non sia sputtanato per qualche motivo l'audio faceva schifo ogni tanto mi mettevo a parlare come un chipmunk si chiamano così gli scogliettolini carini di quel film vabbè comunque in quel modo ogni tanto si sentivano le pop quick cose cose strane cioè davvero sembrava che io sì che io fossi diventato un chipmunk e che stessi registrando sotto non proprio sotto la grandine ma come se battesse la grandine fra un po sulla sulla finestra cosa assolutamente non vera manco piove però vabbè comunque ragazzi abbiamo fatto un po di cose andiamo a vedere nel parlamento per aggiornarvi un secondo la prima cosa in realtà che vi voglio dire non riguarda quello riguarda il fatto che è scoppato scoppato è scoppiato il conflitto con tra russia e ucraina naturalmente la russia attaccato l'ucraina e come ho detto in realtà nella nella registrazione precedente e anche in realtà all'inizio di questa campagna non andrò ad approfondire troppo la questione 1 perché questo è un videogioco 2 perché pur essendomi tenuto informato preferisco non parlarne in questa sede in quanto se dovessi parlarne preferirei farlo preparandomi naturalmente quello quello che voglio dire per essere certo di non dire cacate su un tema così delicato e importante naturalmente comunque una cosa che si poteva fare era fare questo gestisci le sanzioni finanziarie contro i paesi belgeranti dovevo farla partire io la cosa anche per vedere cosa succede in questa campagna ho scelto di farlo e vedremo a breve sì a breve nelle prossime settimane cosa succede tra l'altro grazie al commento di uno di voi ho visto che effettivamente si può richiedere un prestito speciale da parte dell'euro gruppo cosa che sono andato a fare perché vorrei sostituire un prestito della bce a tasso zero con uno di questi più costosi probabilmente quello col col giappone è quello che andrei a ripagare l'unica cosa non so quanto effettivamente mi presteranno perché non potevo chiedere una una cifra specifica ma potevo solo chiedere questo prestito staremo a vedere naturalmente ci auguriamo il il meglio poi cos'altro fatto ho fatto un po di costruzioni dal punto di vista delle infrastrutture ho fatto aumentato di un 10 per cento l'internet adsl il costo è stato anche abbastanza rilevante c'è costato più o meno 2 miliardi e lui finanziava un 10 per cento ho speso più o meno la metà andando ad aumentare invece l'internet mobile 4g dal scusate no quella spesa di di cui vi parlavo in realtà riguardava il i 4g 4g potevo spendere 4 miliardi per arrivare al 100 per cento invece ho scelto di fare solo il 95 per cento e l'anno successivo quindi nel 2023 di fare il restante 55 per cento e questo questo investimento l'ho fatto in quanto è decisamente indispensabile al giorno d'oggi avere una connessione e averla rapida lo so sembra può sembrare strano può sembrare assurdo però tutti noi notiamo quando la connessione non va se ne sentiamo ne sentiamo la mancanza il fatto che sia giusto o meno che sia bello brutto non sta a me discuterlo in in questa sede sta di fatto che il il futuro o meglio il presente richiede delle connessioni che vadano decentemente quindi siamo andati lavorare su quelle infrastrutture poi sono andato a controllare un po di cose per quanto riguarda i trasporti ovvero ho valutato la possibilità di togliere la possibilità in realtà di di bere alcol prima di mettersi alla guida è anche una delle ragioni per cui sono abbastanza a favore delle macchine a guida autonoma ci permetteranno di fare quello che vogliamo e poi di avere una macchina che è macchina portami a casa il punto è che in realtà è un discorso molto ampio e se le macchine a guida autonoma costano tutte dai 40 50 mila euro in su non sarà una cosa ci potremmo permettere tutti quindi una cosa iniqua però sta di fatto che senza ombra di dubbio il bere poi mettersi alla guida è una delle cose che causa più incidenti stradali e più morti su strada naturalmente per quanto riguarda invece sempre l'alcol ero quasi tentato dato che avevo visto da qualche parte in sanità che l'età minima per il consumo è di 18 sono quasi stato tentato di portarlo a 16 il parlamento non sarebbe d'accordo gli elettori sì per il fatto che è un po' una buffonata e in realtà una cazzata adesso la riformulo meglio tutti noi siamo stati giovani e tutti noi quasi tutti noi abbiamo bevuto qualcosa prima dei 18 anni con questo non dico che ci siamo uccisi a suon di alcol però è un divieto che è osservato fino a un certo punto quindi ho valutato la possibilità di diminuire questa questa età ma alla fine ho optato per il non farlo anche perché volevo combinare la cosa con un divieto di alcol alla guida ma dato che il secondo non passava ho deciso di non far passare neanche questo tramite tramite referendum quindi ciccio eccoci qua poi una cosa che sono andato a fare è anche quella dell'aumentare i l'indennità minima di solidarietà e aumentando questa considerate che era 780 euro proposto di portarlo 800 euro mi sono chiesto perché allora non vogliono mettere un salario minimo quando c'è quell'indennità minima di solidarietà che è altissima che è a livelli anche superiori di quelli del reddito di cittadinanza quindi trovavo la cosa un po' strana però sappiamo bene che geopolitica è strano e anche il salario minimo in realtà su geopolitica funziona in modo un po' storto però è una una politica in realtà e l'ho già detto in video precedente su cui sono abbastanza a favore a quella del salario minimo il punto è che e qua ho provato un po' tutti i tipi di combinazione 369 1200 euro nessuna delle opzioni passava quindi a quanto pare non è cosa per il momento e avevo anche un'altra volta riassunto un attimo come funzionano le indennità di disoccupazione il fatto che durano e adesso non mi ricordo ancora quanto esattamente penso dai 12 24 mesi la percentuale è scalante scusate è calante non scalante ovvero scende col passare del tempo non mi ricordo qual è la cifra a cui parte non mi ricordo qual è l'ultima a cui arriva però funziona così e questa complessità non si vede naturalmente nel gioco però pace ce ne facciamo una ragione parentesi questa questa legge qua nonostante la mia proposta non passerà in parlamento io ho provato a proporla anche per magari avere di riflesso un po' di popolarità ma probabilmente non cambia niente poi una cosa che sono andato a fare anche era dal punto di vista dell'energia 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 ho fatto passare no non è questo sulla terra sull'ambiente le riduzioni fiscali per l'utilizzo di energie pulite in questo caso legate alla casa e quindi parliamo per esempio di pannelli solari o anche di impianti in realtà geotermici possibili da costruire solo in alcune zone adesso non so approfondire oltre in questo momento la cosa però dato che poteva passare la legge l'ho fatto un'altra cosa che sono andato a fare è stata quella invece di andare a nazionalizzare in parte il settore delle automobili elettriche di esonerarlo e sovvenzionarlo con 500 milioni e questo l'ho fatto trasformando tra virgolette l'accisa sui prodotti petroliferi e energetici in una sorta di tassa la differenza tra un'accisa e una tassa è che l'accisa è a sua volta generalmente la chiamiamo tassa però è una tassa che non ha uno scopo specifico il cui ricavato poi può venire speso per qualsiasi cosa la tassa generalmente serve per pagare un per finanziare un determinato servizio in questo caso non si può naturalmente trasformare un'accisa in una tassa in questo gioco però ho guardato che guadagniamo più o meno 25 miliardi dalla tassa sui prodotti petroliferi ed energetici ho detto ma sì facciamo che il 2 per cento quindi arrotondando 500 milioni li andiamo ad investire nel settore delle auto elettriche non ho fatto altro non ho aumentato le accise nulla per il momento lasciamo così poi ho fatto qualcos'altro mi sembra di no sinceramente no dove dovrei avervi detto tutto ah sì 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 ho visto anche che effettivamente c'è questo nuovo pannello degli animali sulla protezione della fauna selvatica ci sono le normative sul benessere degli animali al momento in italia c'è il riconoscimento dei diritti degli animali per almeno qua su geopolitica simulatore 4 lo stato legale non so cosa sia andremo ad approfondire eventualmente in seguito non ora c'è la normativa sulla caccia che è oggetto anche del referendum che ci sarà breve adesso non mi ricordo esattamente quando mi sembra che sarà breve e in questo caso sulla caccia vi posso dire la mia posizione io sono abbastanza a sfavore della caccia la vedo come una crudeltà inutile nei confronti degli animali ma allo stesso tempo capisco che sia necessaria quando ci sono alcune specie che diventano infestanti e in quel caso ha senso dare delle licenze di caccia per tenere sotto controllo quelle popolazioni di animali che stanno diventando infestanti infestanti in realtà non è al termine adatto comunque sta di fatto che è una una normativa una una questione anche in questo caso abbastanza complessa e non così scontata da gestire poi c'è anche questa lista di divieti per esempio allevamento intensivo proibito autorizzato e in italia di queste di queste varie cose ce ne sono solo tre autorizzate di cui una molto curiosa allevamento di animali per pelliccia sappiamo che è legale ok possesso di mammiferi marini in acquari autorizzato e ok sappiamo che i combattimenti fra canicioni legali non sapevo che fosse legale il possesso di animali servaci nei circhi ora lo so bene a quanto pare è possibile la macellazione rituale chissà che religione lo fa e non una di questi una religione rappresentata da questi simboli perché che io sappia né ebrei né musulmani macellano in modo di sapete cosa forse inteso non che li sacrificano è inteso che gli animali devono essere uccisi in un determinato modo perché mi sembra di ricordare per esempio che i maiali gli venga tagliato lo stomaco in alcuni casi gli viene fatto un taglio sono appesi c'era sono appesi viene fatto un taglio poi vengono lasciati la poraccia a morire dissanguati non so però se viene fatto per diciamo ragioni cuinarie per perché prende un sapore diverso la carne o se viene fatto per motivi religiosi mia ignoranza non lo so se qualcuno di voi lo sa naturalmente me lo dica qua sotto nei nei commenti anche se sai esattamente cosa si intenda con macellazione rituale ok e questo è bene o male tutto e sono passati 12 minuti vi ho detto quello che ho fatto nello scorso episodio sono molto orgoglioso vuol dire che abbiamo fatto grandi miglioramenti cioè vuol dire che sono stati in grado di riassumere bene il tutto risoluzione 1517 antiterrorismo 2018 sblocchiato cos'è a infiltrarsi smantellare un'organizzazione terroristica bene è vero avevo fatto ordinato lo smantellamento di un'organizzazione cui ci siamo infiltrati che adesso non c'è più ed era quella dei combattenti per l'integrità italiana che mi sembra che fosse il movimento del terrore di estrema destra allora un momento benvenuti tutti l'incontro avrà luogo durante il giorno siete liberi di deliberare tra fra voi prima che la risoluzione venga messa al voto ma siete consapevoli del fatto che dobbiamo rispettare i tempi sta a voi gestire al meglio queste conversazioni bilaterali vi ricordiamo che questa è proposta una riduzione dei debiti per un paese che potrebbe essere aggravato da una risoluzione buona fortuna nella tua discussione ma in realtà sono tutti a a favore c'è solo uno che si astiene a noi ok direi che è un anima allora sanzioni finanziarie contro contro la russia ok ora cosa succede approvata e quindi abbiamo sradicato quindi come si chiamavano combattenti per ricordavo bene per l'integrità dell'italia va bene questo cos'è gestisci le sanzioni finanziarie contro i paesi belligeranti il paese sta aspettando lei è stato eletto grazie sui interventi ma solo agendo potrà rimanere capo del governo in realtà se sto impersonando draghi non sono propriamente stato letto come in realtà la maggior parte dei nostri governi ma in quel caso non è neanche propriamente una colpa non è questione che non è una colpa della politica sì in realtà è una colpa della politica il fatto che non riusciamo a portare a termine una maledetta legislatura che i governi durano poco più di un anno è deprimente come cosa ragazzi ma è una cosa che penso di aver già detto la ribadiamo un'altra volta ci sono grandi proteste tra l'altro in in egitto chissà per cosa posso posso vederlo devo farmi i cazzi miei devo farmi i cazzi miei va bene e però scusa perché mi fai vedere la rivolta gli ubersi e non mi fai vedere per cosa stanno protestando qua in egitto ok vabbè mi farò gli affari miei così sia andiamo un attimo ancora sulla politica dell'ue ok abbiamo applicato le sanzioni tutto qui ma no questa è una legge che sto facendo io quindi non importa accordo bilaterale gestisci le sanzioni finito qua va bene tra l'altro era andato a cercare un attimo quella cosa che hanno aggiunto per quanto riguarda le fake news la gestione della rete ma cause di morte è vero che sono state aggiunte ok ok ah tra l'altro ragazzi avevo anche paventato bel termine la possibilità di regolamentare la cannabis in quanto sul gioco in realtà ha degli ottimi benefici genera molte entrate anche se anche se va ad aumentare il il tasso naturalmente di tossicodipendenza dal punto di vista reale ci sono alcune ragioni per cui sono a favore ma sarebbe da approfondire la la cosa al limite se la legalizzeremo nel gioco ne parlerò un pochino ma anche in questo caso è una cosa da approfondire ok allora facciamo andare avanti tranquillamente il tempo il michelo è ha vibrato nazionalizzazione andata assassino di gianfranco boschetti il gruppo maffi italiani identificato a maledetti maledetti ma come vi permettete ah tra l'altro ecco cos'altro avevo fatto avevo fatto un'altra cosa cioè più che avevo fatto avevo ricevuto i risultati del del sondaggio sulle intenzioni di voto e ri era al 12,9 per cento che non è male per un partito che al momento ha due seggi in parlamento legge sulle indennità minima di solidarietà solidarietà non so parlare passata è passata anche la legge sull'indennità di disoccupazione cosa abbastanza interessante ho dovuto fare un taglio al minuto 6 perché ho tossito fortissimo e anche al minuto 16 a quanto pare dovevo tossire curioso curioso decisamente curioso e mi sta andando via la voce ottimo ok ragazzi eccoci con il caro di baggio che ci dice ci parla dell'arte della diplomazia discussioni bilaterali bilaterali perché ho messo la doppia l bilaterali lo firma di accordi economici e strategici metodi più subdoli cooperazione scientifica anni di cultura ok schemi di studenti o costruzione comune di ferrovia autostrada inoltre alle sessioni del consiglio di sicurezza dell'onu possiamo migliorare le nostre negoziazioni e aumentare la pressione su paesi non cooperanti a votare per noi ah giusto ho anche chiesto all'onu di farci diventare membro permanente così pur parlare nel senso tanto per per provare probabilmente non passa ma per curiosità l'ho voluto fare considerato che probabilmente la Russia andrà a mettere il veto su questa proposta la Cina considerando che è neutral nei nostri confronti probabilmente dirà meh gli americani diranno di sì e penso anche inglesi e francesi in realtà però staremo a vedere staremo a vedere una volta che ci sarà il il voto naturalmente ok cos'altro possiamo fare adesso per quanto riguarda l'energia potremmo costruire in realtà qualche altra centrale però facendo una breve stima nel momento con due centrali solari facciamo 25 terawatt con altre otto probabilmente andremo a produrre altri 100 e in teoria con quello che abbiamo costruito andremo a sostituire completamente il nostro cioè sì andrei staremo in grado di sostituire completamente il nostro fabbisogno da energia fossile con fonti rinnovabili senza neanche il bisogno di costruire una centrale nucleare sembra assurdo wow deficit del 13% prestito accordato dall'euro gruppo 604 miliardi caspita grazie 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 molto gentile da parte vostra riacquistiamo il nostro debito col Giappone perfetto che altro mi fa pagare tantissimo i cinesi in realtà ci prestano dei soldi ma ha un tasso di interesse migliore di quello di alcuni nostri alleati quindi facciamo che lo ripaghiamo anche agli stati uniti e in parte alla Francia ok addirittura addirittura prestito trasferito manifestazione contro l'incremento del deficit forza italiana moderata manifestazione contro l'incremento attenzione al deficit primo ministro il suo deficit di bilancio non rispetta più il patto di stabilità sì vabbè ragazzi tranquillo è dovuto al prestito suppongo suppongo facciamo finire il mese vaccini covid 51% va bene adesso penso che riprenderemo popolarità perché il mese prossimo si dovrebbe regolare un attimo il tutto politica economica e commerciale ah ok qua ci dice banalmente degli accordi che possiamo fare nella sezione dell'unione europea con altre nazioni 60% campagna di booster quindi sta andando decisamente bene dato che mi rompete così tanto le balle sul sul deficit facciamo che cerchiamo di no non me la fanno passare la tassa sull'incremento industriale benissimo e la tassa avevamo già provata e avevamo visto che era che era tosta tassa per i turisti che entrano in un territorio ci facciamo 45 milioni sapete che la faccio diventare effettivamente una tassa per andare a finanziare il settore del turismo però non adesso naturalmente scusa tassa sulle transazioni finanziarie vediamo se riusciamo a farla passare non ci serve naturalmente che sia altissima però un po' di soldi perché no questa tassa se ben ricordate è una sorta di cheat di geopolitica simulator perché permette davvero di prendere tanti soldi nelle nazioni sviluppate è una tassa applicata per l'appunto alle transazioni finanziarie ed è destinata a limitare la tendenza alla speculazione facciamola passare ah tra l'altro vediamo un attimo l'opinione anche del popolo ok alla via così facciamo anche una bella tassa sulle scommesse 5% io in realtà vi dirò è molto più alta quella reale su questa però non facciamo nessun intervento carbon tax andiamo a mettere anche questa ok e la facciamo passare deforestazione è più simbolica che altro perché come vedete ci facciamo davvero pochissimi soldi quella del sul sale e grassi del settore agroalimentare pure l'imposta sul tabacco assurdo che non ci sia quando in realtà è molto alta e in realtà ne abbiamo già parlato di di questa come in episodi precedenti o in campagne precedenti ma avevo già detto come in realtà per quanto sia un'accisa vista come incredibilmente ingiusta non lo è così tanto considerando che poi i fumatori che a causa del fumo per l'appunto hanno un tumore si vedono fornire delle cure a spese del servizio sanitario nazionale dei loro concittadini e lo dico da fumatore io stesso che non è assolutamente ingiusto un'imposta sul tabacco anzi va banalmente a coprire in parte solo in parte questo questo rischio e queste altre spese tassa sui licenziamenti lasciamola stare sui grandi patrimoni non mi piace metterla anche perché la compensi facilmente con una tassa sui diritti di successione animali e compagnia no livello fiscale regolare e repressivo amministrazione fiscale lasciamo stare esonore per gli investimenti nel settore immobiliare per ora no esonore i vetri di guerra sì eppure le organizzazioni di volontariato va bene vediamo un attimo come sono viste queste queste tasse vediamo cosa dico per le transazioni finanziarie per la tassa sulle transazioni finanziarie mi fa morire sta foto ho deciso di promuovere la tassa sulle transazioni finanziarie si tratta di un modo giusto di ridistribuire una piccola parte dei profitti generati dall'economia virtuale troppo spesso a capito dell'economia reale ma più che di una misura di giustizia si tratta di uno strumento per regolare la speculazione finanziaria e per limitare gli eccessi ok potete fare meglio ci dicono va bene continua la manifestazione contro l'incremento del deficit che è al meno 13,5 sapete che temo che sia un effetto delle sanzioni uh disordini a Roma è la piazza occupata dal partito liberale conservatore uh ok vediamo un attimo di gestire la cosa no non assolutamente stavo per mandare i soldati succedeva un casino se lo facevo mandiamo degli altri rinforzi mandiamo degli altri rinforzi incoraggiamento dal presidente per la fondazione umana va bene rivolta a Roma operazione califato jihadista agente morto in missione molto male ok vediamo un attimo di gestire la situazione qua sotto tra l'altro il timer sta per scocchiare ancora un minutino e vi giuro che io temo molto il momento in cui metterò in pausa qua e ascolterò l'audio del video non sono sicuro che le forze di polizia ce la possono fare ah caspita eravamo a tre voti dal dal diventare membro permanente naturalmente il veto della della russia più del tutto curioso curioso molto curioso minacce militari in polonia primo ministro teniamo gli occhi aperti forze armate dell'ucraina minacciano la polonia va bene terremo gli occhi aperti strana cosa che ci lo state facendo ragazzi timer sta scocchiando ma prima vediamo di sistemare un attimo la questione qui avrei quasi voluto sinceramente far far finire il mese per vedere se il deficit si va a sistemare un secondo ok legge sulle riduzioni fiscali aiuto per l'utilizzo di energie pulite è passata bene accoglienza di rifugiati primo ministro a causa della guerra in ucraina un gran numero di civili scappano dalla zona di guerra e si dirigono verso i paesi confinanti in campi profughi possiamo offrire di tirare fuori questi rifugiati da questi campi vulnerabili che portai nella nostra città per ridare loro un po' di comfort e sicurezza e per partecipare alla solidarietà internazionale la nostra associazione ha calcolato un costo medio di 12.600 euro per il rifugiato ma le vite umane non hanno prezzo non pensi? ok e come come posso fare? di grazia probabilmente è una cosa che faccio se vado su immigrazione ok no non è qui va bene nel prossimo episodio andremo a vedere un attimo come si fa questo prego che ci preoccupiamo dell'ecologia emissioni di CO2 in aumento ho fatto la tassa apposta e anche altri investimenti e altre cose naturalmente va bene ragazzi ci fermiamo qua con un livello di popolarità in realtà abbastanza basso ci auguriamo sinceramente che con il finire del mese con l'operazione che abbiamo fatto sul nostro debito nel mese successivo andremo a recuperare naturalmente a rimetterci in sesso da questa da questa situazione e che naturalmente anche la nostra popolarità ne risenta positivamente io come sempre mi auguro che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando lasciate qua sotto un bel mi piace condividete questa campagna con amici e mi raccomando commentate se avete consigli suggerimenti domande se volete condividere una vostra esperienza su geopolitica simulator 4 qualsiasi cosa commentate qua sotto io leggo tutti i commenti e cerco sempre di commentare adesso vi saluto a tutti i giornali ci vediamo nel prossimo episodio a presto